Ma-ma-ma-cattivissimo! Boom! Gli da un calcio più forte e guardate che devasto! Boom! Annuncio importante, martedì 28 marzo 2023 sarò in live sul canale ufficiale di PlayStation, sul sito Viola, insieme a mio fratello Fortwood Gamer per giocare The Last of Us Part 1 su PC e per parlare della serie TV di The Last of Us che ho amato. Trovate il link qua sotto in descrizione, mi raccomando ci tengo, mettetevi la svedia, non mancate. Quello che state vedendo in questo esatto momento ragazzi, no, non è uno scherzo, è il piccolo del DLC numero 16. Com'è possibile quindi che io ce l'abbia qua nel roster? Dovete sapere che nell'aggiornamento della forma vista che abbiamo visto qua sul mio canale, ho fatto delle guide e andate a recuperarla, beh c'erano tutti i file relativi ad Orange Piccolo e questa quindi è una mod che è stata ricreata con quei file. Quindi questo ragazzi, nonostante non sia completo al 100%, è il piccolo del DLC. Ovviamente non appena uscirà il DLC vero e proprio, non solo lo acquisterò, ma ci farò vari video per andare a vedere se poi il piccolo in forma orange era veramente questo oppure no, faremo delle verifiche, e poi soprattutto andremo anche a provare Gohan nella sua forma beast. Non vedo l'ora, io sono Joseph Gamer, l'ho detto dopo ben 30 secondi di video, lasciate un like e vi voglio carichi al massimo, iscrivetevi ora al mio canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche. Vado quindi a scegliere questo personaggio e potremmo andare anche ad andare ad utilizzare magari un avversario come Gamma 2, che è un bel avversario all'interno del film Dragon Ball Super Super Hero. Se notate, qua in basso a destra c'è anche un'altra iconcina con uno sbrilluccichio, non c'è la mappa, ma chissà se verrà sbloccata in seguito. Io direi di andare a combattere, magari come sempre, al nostro carissimo torneo mondiale e andiamoci a godere questo orange piccolo. Io ragazzi non vedo l'ora che il DLC esca, purtroppo non abbiamo date, me lo chiedete di continuo su tutti i social, purtroppo nel momento in cui sto registrando non abbiamo informazioni ufficiali. Ed eccolo qua! Allora ragazzi, occhio, mi sembra veramente il piccolo dei trailer. Cioè ragazzi, è veramente assurdo. Zyko Shen, che è un modder con cui sono in contatto, insieme a tanti altri come Joao e veramente tanti modder ultimamente, è riuscito a ricreare tramite questi file, appunto, direttamente questo piccolo. E guardatelo! Direi che è molto, devo dire la verità, molto, molto simile a quello presente all'interno del film, se non quasi identico. Hanno fatto un ottimo lavoro, questo è il suo movimento bello grosso, molto bello, non vedo l'ora di andare ad utilizzare anche le sue supreme. No, non mi devo fare spoiler! Allora, avevo letto qualcosa di strano che mi era già stato anticipato, ma arriviamoci pian pianino. Bellissimo Gamma 2. Ne andiamo subito a vedere quelle che sono in generale le sue combo leggere, quelle con quadrato. Ed eccole qua, teletrasporto e lo butta giù! Veramente molto cattive! Ma poi è bello grosso, cioè capito ragazzi, è proprio imponente. Quello che sto anche notando adesso è che ha aura e vigore altissimi, ma soprattutto l'aura. Mi sembra troppo alta, non so se è normale sta roba. Andiamo a vedere quelli che sono i suoi attacchi pesanti con triangolo. Quindi, eccoli qua! Ma che è sta cattiveria? Pure due sfere di energia? Ma perché, scusami? Ma mica si può prolungare questa roba? No, finisce così la combo. Ma aspettavo, dopo le due piccole sfere, ne facesse una più grossa, una roba così. Sembra quasi a metà. Chissà se magari il personaggio ufficiale, poi all'uscita del DLC, avrà effettivamente questa cosa in più. Vi ripeto, questa è una versione beta del personaggio che uscirà. È completa tipo, che ne so, al 99%. Allora, è arrivato il momento di provare a concatenare qualche altra cosuccia. Con questo lo buttiamo subito a terra. Poi, quadrato, quadrato, e poi i vari triangolo. Ancora lo stesso. Tre volte quadrato, e ancora così, va bene. Poi, uno, due, tre, quattro. Conclude ancora in questo modo. E poi, uno, due, tre, quattro, cinque. E vediamo se cambia. Va a cambiare! Ma questa è una roba proprio da broli. Vediamo. Questa. Questa è palesemente una roba da broli. Però mi pare, aspetta, che nel film la fa, sta mossa. Il film l'ho visto un'unica volta. Sto aspettando l'uscita in Blu-ray, o in generale piattaforme di streaming, chiaramente legali, per acquistarlo, non so, noleggiarlo. Il film non esce. Oh, ma che sta da fa? E poi c'è Peppenniello che ve lo sponsorizza, insieme a TubeBlazzi. Forza. E che dire, ragazzi? Io direi di andare... Ah, aspetta. Stamina Break. Ma? Questa cattiveria. Vediamo lo Stamina Break. Guardalo. Boom! Vediamolo nel viso. Ma? Orange Piccolo cattivissimo! Ma questo sguardo malvagio. Ma proprio cattivo. E vediamo l'altro Stamina Break. Vediamo. Boom! In realtà è molto simile alla combo che abbiamo visto prima. O sbaglio? Ecco qua. Questo lo rifà come Stamina Break, come secondo Stamina Break. Boom! Questa volta però distruggendogli il vigore. Al top, ragazzi. Veramente non male. Direi che è arrivato adesso il momento di provare la presa. Quasi me ne stavo dimenticando. Questa è la presa? In realtà mica continua. Aspetta. Mi è sembrato che volesse tipo prolungare la roba? No, in realtà no. Però non mi sembra una grande presa, se devo essere sincero. Vedremo se poi, ecco, nella versione ufficiale del personaggio avrà delle variazioni particolari oppure no. E poi cos'altro manca? Mi sa nient'altro. Aspetta. Vediamo anche i colpi di energia. Mi sembrano forse un po' più grossi del solito. Ma scrivetemelo nei commenti. E poi, ovviamente, il nostro cerchiettone, come ci piace chiamarlo, la sfida di energia più potente. Sto notando anche la sua aura. E guardate che bella. Ha varie colorazioni. Un po' arancione, un po' violacea, carina. Però l'aura vedremo se poi il personaggio probabilmente ce l'avrà già quando è fermo e robe simili. È arrivato il momento di andare a vedere le sue mosse, ragazzi. Allora, in primis, abbiamo un'onda furiosa. Che, tra l'altro, è quella che io utilizzo anche per il mio patroller. Veramente non male mi è stata consigliata da voi per, appunto, fare i PvP. Quindi top. Dai, ci può stare. Mi sembra non malaccio. Consuma due tacche di aura. Quindi, perfetto. Poi, andiamo a vedere il Fierce Fist. Ma è molto piccino questo. Oh, però fa un bel po' di danni. Occhio. Guarda. Ma... Ma piccolo! Ma piccolo, ma... Ma questa cattiveria? Ma mica si carica. L'onda furiosa? No. Se premo più volte non fa nulla. Vediamo questo. Lo premo più volte? No. Magari lo tengo premuto. Vediamo che succede. Ma... Si carica? Quattro volte? Oh, e lo tiene così. Ma è impazzitissimo. Lo tiene premuto. Boom. E farà più danni? No. Ma... Ma... Ma combatte così. Ma si è baffato. Ma che fa? Ma ce l'ha ancora? Ma è matto? Ragazzi, ma... 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 Cattivissimo. Ma è bellissimo. Io non so se aumentano i danni mentre attivo questo colpo. Ma come devo fare? Scusa per... Per far rilasciare questa energia. Devo sempre, forse... Premere questo. Ma ce l'ha per sempre. Ma chissà se ce l'avrà sta roba pure il personaggio quello lì... In generale... Ufficiale. Non lo so. Cioè, vedete? Si ricarica due, tre volte. Tre come massimo. E poi va a colpire. Ma ti resta il braccio in questo modo. Non so se va... Se fa veramente più danni. Oh, ho fatto il demonic destruction! Pia da volo? Boom! E poi onda furiosa? No, in realtà no. Andrebbe concatenato meglio. Quindi è proprio una vera presa questa. Mamma mia, ma dove scappa da qua? Prova a scappare se ce la fai. Lo piglia a volo. Lo prende e lo scaraventa. Ma che è sta cattiveria? Occhio perché... Ragazzi, Orange Piccolo fa concorrenza a Broly qua, eh. Proprio anche come stazza. Poi li devo mettere a confronto magari. Però... Cattivissimo. Ma se io faccio riavvia... Ah, ok. Torna normale. Ma se lo tengo premuto solo una volta? No. Se lo tengo premuto... Uno, due... Lo colpisce e non lo mantiene. Se tengo premuto tre volte... Uno, due, tre... Mantiene quest'aura da questo braccio. Ragazzi, ma lo spettacolo devastante di questo piccolo... Ma è bellissimo! Sono troppo casato. Vai, io che ci posso fare? E quindi... Questa è la carica massima. Con questo fatto che c'ha sto braccio con quest'aura... Ed elettricità è devastante. Poi dà anche una colorazione... Veramente demoniaca. Ma... E poi... No, lo sapevo. Mi era stato detto. Mi era stato detto, ragazzi. C'ha l'onda energetica massima potenza. Una sconfitta per tutti noi. Vedremo poi se ufficialmente il personaggio ufficiale, appunto, avrà questa mossa. Facciamola, togliamocela dalle scatole. Onda energetica massima potenza. Ma chissà se... Se magari viene potenziata da questo braccio. Perché la fa proprio con quel braccio lì. Vediamo. Arriva quasi alle tacche di aura di gamma 2. Adesso mi vado a potenziare il First Fist. Come cavolo si chiama? First Fist. Va bene. Ok. Potenziato già a tre livelli. Onda energetica massima potenza. Magari viene giustificato in questo modo. No. Fa gli stessi e identici danni. Nulla di che. Un po' un peccato. Qua abbiamo il colpo del raggio speciale. Ma è un mini Makanko Sapo. Capito bene? Un mini cannone dell'anima speciale. Vediamolo. Ma c'era già nel gioco. Mi sa di no. Non mi ricordo. Sapete? Cioè è un'evasiva che include un cannone dell'anima speciale. Bello. Ci sta. Ci sta. Mi piace. Non male. E adesso ragazzi. Occhio. Perché vedremo ufficialmente quella che è la sua suprema caratteristica. Apocaliptic Burst. Non vedo l'ora. 3, 2, 1. Apocaliptic Burst. Boom. Bellissima. Boom. Ma l'avevamo vista già nei trailer questa? Forse sì. Sapete? Mi sa di sì. Perché mo' ce l'avevo familiare. Però di sicuro è di orange piccolo. Forse l'abbiamo intravista nei trailer. L'avevo quasi rimossa. Voglio vedere se tengo premuto più volte. Continua la combo. No. Sto continuando a premere e non la continua. E poi vediamo un attimino. Se tengo premuto. Boom. Gli dà un calcio più forte. Guardate che devasto. Boom. Bellissimo. Allora questa suprema ragazzi. Guardate. Ma poi si rica... Cioè. Ottiene quest'aura. Quest'aura assurda. Con questo calcio. In realtà non è che gli va nello stomaco. Lo becca nel... Proprio nel viso. Forse Gamma 2 essendo più basso. Gli fa primo uno sgambetto. Lo fa roteare. Guarda. Guarda Gamma 2. Lo fa roteare su se stesso. Boom. Un calcio dritto sul collo. Sul petto. Non lo so. Si va a girare anche lui. E va a ricaricare questo colpo di aura. Con questa sfera ragazzi. Potentissima. Guardate. Sembra quasi stanco. Quasi tenebroso. Che spettacolo. E poi lo va praticamente a caricare un altro po'. E glielo sbatte completamente nel viso. Ecco. Già lo so che adesso ci saranno tantissimi meme. Ne sono pienamente consapevole. Ragazzi. Suprema. Incredibile. Voglio però fare una cosa. Voglio fare quest'attacco. Con questo colpo caricato. Vediamo. Esatto. Così lo voglio fare ragazzi. Vediamo. Semi potenzia la mossa adesso. Apocaliptic Burst. Guarda che spettacolo. Distruggero. Ma. Ma. Bellissimo. Bellissimo ragazzi. Spettacolare. Allora. Il personaggio è veramente bellissimo ragazzi. Cioè. Io credo che ci sia poco da dire. Guardate quanto è Chad proprio. Solo che. Non sappiamo se è la forma vera. Completa al 100%. Ripeto. Dovrebbe essere al 99% lui. Ma non appena il DLC uscirà. Vedrete i video qua sul mio canale. Della nuova storia. Di questo range piccolo ufficiale. Di Gohan Beast. Perché ormai è stato annunciato. Anche della forma Awakened. Sempre di piccolo. E tanto tanto altro. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella della notifica. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.